Vorrei chiuderla così, perché questa è una domanda che dice molto anche del politico, dell'idea che uno ha della politica. Allora, la critica più facile rispetto alla rottura col PD è che quella che poi uno alla fine in politica gioca anche per vincere, no? E stando dentro il PD ci poteva essere la possibilità con questa legge elettorale di confrontarsi davvero con la destra e quindi di vincere. È il voto utile. E non è importante per chi fa politica. Si chiama il voto utile, no? Sì. Ecco. Ma quant'è che usano sta storia del voto utile? 30? 35? 45? 64? E quant'è che volete andare dietro a sta cosa? Mi dovete spiegare. Primo, tecnicamente è una cosa sbagliata perché sono quattro coalizioni. Quindi purtroppo non c'è questo confronto sugli unioni nominali. C'è la possibilità per noi di prendere tanti voti di persone che sono, erano collocate nel centro-destra ma che non gli piace il fatto che abbiano buttato giù Draghi, che facciano propensione, che sono persone serie. E tanta gente di centro-sinistra che non gli piace di vedere il PD di nuovo ricominciare da Fratoianni, Bonelli e Di Maio e tutta sta gente qua. Ma io non faccio politica così. Cioè io non faccio politica così. Io faccio politica per sconfiggere questa cosa. Io faccio politica per sconfiggere l'idea che tutto si riduca al fatto che tu ti devi bere qualunque cosa, che sai già che fallirà, che già si contraddirà, che farà tutto il contrario di tutto. Perché? Perché ti dicono è così o vince l'altro. Ragazzi, sono 30 anni che ci ammazzano col voto contro. Ma contro chi? E poi questo paese, signori, va riappacificato. Ma chi se ne frega se uno di voi ha votato destra, ha votato sinistra. Ma volete fare delle cose normali o ne le volete fare? Perché io mi sono profondamente stancato. Ma qui stiamo in mezzo a una situazione geopolitica devastante. L'inflazione. Saranno anni durissimi. Ma che vogliamo fare sto film per cui metà siamo fascisti e metà siamo comunisti, gli unici imbecilli rimasti a discutere di queste cose nell'emisfero occidentale? Io mi rifiuto. E allora quello che faremo, molto semplicemente, è quello che abbiamo, che è la ragione per cui faccio politica. È quello che ho fatto a Roma. Io voglio fare la politica come gli italiani, teoricamente l'hanno sempre chiesta. Cercando di spiegare le soluzioni, comportandosi bene, ammettendo gli errori come appena ammesso quello della candidatura. Spiegando come fare le cose, dicendo le cose che si possono fare o non fare, eccetera, eccetera. Poi gli italiani decidono che sono re. Decidono che invece vogliono continuare. E dai, adesso c'è stata la rivoluzione, il cappotto giallo del vaffa. Poi c'è stato il verde, prima gli italiani. Mo c'è l'azzurro del sono una madre, sono cristiana. Facciamone un altro. Quanti ne volete fare? Quanti migliaia di queste robe vogliamo fare prima di prendere un albero in fronte tutti quanti insieme mentre ci diciamo fascisti e comunisti? Allora, io sono un liberale progressista. Dentro azione ci sono liberali classici, ci sono popolari e sono persone normali che hanno visione della realtà a certe volte differenti, possono pensarla differentemente sulle questioni etiche, ma che hanno un'idea di buonsenso di un paese spinto dall'iniziativa individuale che è fondamentale per andare avanti, ma allo stesso tempo che ricostruisca un tessuto di persone che stanno insieme su un ordinamento etico in cui si riconoscono. E questa è la ragione per cui faccio politica. E non ce n'è un'altra, quindi io non lo posso fare. Io non posso dire che il voto utile è presentarsi con una coalizione che non governerà mai. perché non è utile, perché la politica etimologicamente vuol dire arte di governo della polis. La politica è la capacità di governare, se non c'è l'appezzo del governo non è altro che il rumore. E se è il rumore alla fine fa male a tutti. E io vi prego, vi scongiuro, siate liberi. C'era un filosofo francese, Etienne de la Boétie, che era molto amico di Montaigne, che scrisse un volumetto incredibile, molto attuale, che si chiamava Della servitù volontaria. Si chiedeva perché cittadini, che stiamo parlando di sette secoli fa, si sottomettessero, essendo molti di più, al volere del monarca. Ecco, io voglio dirvi questo. Nessuno vi ha categorizzato, nessuno vi ha detto che dovete votare X o Y. Voi siete liberi e siete potenti se siete liberi. E siete potenti se quello che io vi ho detto stasera lo mettete in discussione. Quando io trovo una persona che mi dice Calenda, io su questo non sono d'accordo con lei. Ma va benissimo, ma ti pare che potete essere d'accordo con me su tutto. Ma chi è d'accordo con qualcuno su tutto? E se voi siete liberi e potenti, il paese lo possiamo cambiare. Il che non vorrà dire che avrete duemila delusioni perché pensate che tutto si possa fare in un modo e invece si può fare in un altro. Ma almeno iniziamo una strada in cui chi è libero siete voi. Perché quello che manca all'Italia sono i cittadini che si riappropriano e dicono No, mi dispiace. Io non sono nel branco con la X o nel branco con la Y. Io ho la libertà di scegliere quello che mi sembra convincente, esattamente di fare un colloquio, come stessi al bar. Il primo video di campagna elettorale che ho messo era il mio curriculum vitae raccontato. Perché le persone lo devono sapere. Non è che quello che vale per le persone che stanno fuori dalla politica non vale per la politica. Quello che hai fatto nella vita dice di te e ti prepara a fare o non ti prepara a fare cose. E questa è la libertà vostra perché noi siamo a servizio vostro ma non per compiacervi. Perché non è il lavoro di un politico per compiacervi. non per solleticarvi ma per servire. Che è un termine alto. Che vuol dire mettersi lì e dire questa è la direzione perché questa è la direzione giusta e vi spiego il perché. E voi lo mettete in dubbio ogni giorno, ogni momento, ogni volta. E se siete questo siete cittadini liberi. Se non siete questo non è che non siete liberi voi. È che non è libero il paese anche se ha la forma di democrazia. E voi lo mettete in dubbio ogni giorno. Grazie a tutti.